Buongiorno a tutti. Lo spirito, il filo rosso dei vari video di questo canale sono l'interdisciplinarietà, nel senso che io possa parlare di un film di guerra, di spionaggio, d'azione, un biografico, che io possa affrontare una biografia di un generale, di un diplomatico che possa analizzare le vicende di un decennio rispetto a un trattato internazionale. Quello che unisce tutti questi aspetti è un po' la memoria e come attraverso tutte queste sfaccettature riusciamo in qualche modo a dare un senso nel racconto sia di fatti effettivamente accaduti, sia di fatti che hanno una loro verosimiglianza, di fatti poi magari che sono assolutamente fantastici, ma che in qualche modo hanno degli elementi di riflessione che ci portano anche a capire alcuni aspetti reali o semplicemente ipotetici. E affrontando il tema per esempio delle serie tv, tempo fa avevo recensito la serie Remington Steel, mai dire sì, una serie che è andata in onda prima negli Stati Uniti, poi anche in Italia, a partire dalla metà degli anni Ottanta e che vedeva il protagonista, ossia Remington Steel, con una sua versatilità, con una sua caratteristica principale, fare continuamente citazioni cinematografiche e fare citazioni cinematografiche molto spesso attraverso la figura di Humphrey Bogart. E quindi è inevitabile che per parlare del film a casa blanca io mi debba anche in qualche modo riferire a quella a quella serie tv perché? Perché casa blanca, casa blanca di Michael Curtis del 1942-43, poi andremo a capire anche questa distinzione tra l'anno di produzione e l'anno di distribuzione perché essenzialmente casa blanca è un po' il simbolo del cinema. È l'essenza del cinema attraverso la magia ma anche la capacità di adattamento e di connubio tra realtà e finzione, tra spettacolarità e drammaturgia e tutto un qualcosa che in qualche modo è rimasto iconico e nonostante siano passati quasi 80 anni dal primo ciac di quel film abbiamo ancora una grandissima attualità in alcuni temi trattati in quella pellicola. Ma andiamo a capire meglio il film e tutta l'epica, tutta la notorietà coeva e ma soprattutto apostoma che quel film ha offerto al più grande pubblico. Allora bisogna partire inevitabilmente da una pièce teatrale dal nome Everybody Comes to Ricks di Murray Barnett e di Joan Ellison che piacque tantissimo ad alcuni autori, ad alcuni membri di produzione della Warner Bros che a partire dal 1942 decisero appunto, all'inizio del 1942 decisero di comprare i diritti di quest'opera pagandola uno sproposito, all'epoca stiamo parlando di circa 20 mila dollari dell'epoca, quindi un importo assolutamente proibitivo. Siamo ovviamente dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti già sono entrati in guerra e hanno anche un atteggiamento particolarmente interessato ad affrontare tematiche non solo ovviamente belliche ma tematiche che riguardano l'Europa, tematiche che riguardano i paesi dell'Europa, in particolar modo la Francia di Vichy e la Germania nazista che in qualche modo rappresenteranno da lì a pochi mesi un elemento imprescindibile sia nelle relazioni diplomatiche ma soprattutto nell'attività prettamente bellica. E questo elemento è fondamentale anche per andare a capire le dinamiche del film perché? Perché appunto la situazione di Casablanca, del Marocco francese, in cui ci troviamo di fronte è una realtà un po' estraniata rispetto alla guerra guerreggiata. È normalmente definito appunto un film di guerra dove effettivamente la guerra traspare, la guerra emerge, dove la guerra viene sentita in ogni suo frammento ma in realtà poi la guerra si vede veramente poco, soltanto in alcuni flashback ambientati nella Parigi del giugno del 1940 in cui appunto vi è l'elemento del racconto, un elemento un po' che di introduzione rispetto alla storia che poi andiamo a capire di pari via via discorrendo. Ma è un film tipicamente bellico perché abbraccia molte, e questo sarà un po' la fortuna della pellicola, tutte le dinamiche di un film noir. Pensiamo come il cinema americano che avrebbe trovato in una parte importante della sua evoluzione, il noir come un elemento di grande successo, ebbene il noir filtrato da una storia d'amore, filtrato da tante caratteristiche anche un po' esotiche. Nonostante il film sia girato per tutta la sua parte negli Stati Uniti, riesce in qualche modo a ricostruire forse in maniera ingenua, un po' stereotipata la realtà araba, ma è molto efficace perché riesce in qualche modo a rappresentare, anche al di là di una verosimiglianza, di una coerenza nella ricostruzione effettiva di Casablanca, ma riesce a emergere in maniera sostanziale quello che poteva essere il clima di Casablanca in quel contesto particolarmente difficile e particolarmente contorto. E gli elementi della guerra tornano anche in aspetto produttivo. Perché? Perché vengono chiamati alcuni sceneggiatori che poi abbandoneranno e ritorneranno, perché impegnati nella serie, perché combattiamo. Quindi come l'aspetto documentaristico, l'aspetto di finzione, si vanno un po' a confondere e a sovrapporre, perché sostanzialmente poi anche Hollywood è impegnata nella lotta contro, in questo caso, il nazifascismo. Un nazifascismo che si esprime attraverso le figure un po' macchiettistiche, perché abbiamo la figura dell'italiano, dell'ufficiale italiano di collegamento, che tra l'altro è un'edizione successiva alla guerra, e il 46 italiano viene tagliato, o quantomeno fortemente ridimensionato, ma abbiamo la figura dell'ufficiale francese che ha una sua connotazione in evoluzione, tutta una sua dinamica di contrapposizione ai vari soggetti, e poi la figura dei tedeschi, che vengono presentati, almeno nella versione italiana, continuamente come del Terzo Reich. Quindi non hanno una loro connotazione di ufficiali, in questo caso dell'aeronauta e della Luftwaffe, ma ne andate con un elemento prettamente politico della propria collocazione, sia istituzionale, ma anche di funzione, perché stanno là. In realtà poi questo sarà una finzione, perché nel Marocco francese non vi saranno mai stazionate le truppe tedesche, l'elemento anche del viaggio, che dall'Europa arriva a Casablanca per poi tornare a Lisbona e poi andare verso gli Stati Uniti, in realtà non era così, in realtà vi erano altri tipi di canali per poter allontanarsi dall'occupazione tedesca, ma questo è quell'elemento che nella finzione narrativa riesce in qualche modo a dare un tono altalenante, un tono di alti e bassi che in qualche modo arricchisce la produzione. Una produzione narrativa che si può arricchire con tanti altri piccoli personaggi che in qualche modo sono forse anche un po' macchiettisti, che pensiamo al ladro, pensiamo al concorrente di Ricks nell'altro locale, il pappagallo, il pappagallo verde, non mi ricordo come si chiama, tra l'altro il lato, il borseggiatore è doppiato nella versione tedesca da un giovanissimo Alberto Sordi, quindi ci sono tante caratterizzazioni che riescono a costruire un congegno veramente ben riuscito. Un congegno perfettamente ben riuscito nonostante vi siano degli inciampi, delle difficoltà a livello di sceneggiatura. Perché? Perché la sceneggiatura, partendo dal soggetto tedesco di cui vi dicevo, è stata piano piano ridimensionata e sostanzialmente il film è iniziato e si è andata facendo le riprese in maniera progressiva in base a come era l'evoluzione della storia perché non si sapeva come il film sarebbe andato a finire. La protagonista, interpretata Ingrid Bergman, non si sapeva con chi sarebbe fuggito. Sarebbe fuggito con Ricks l'emblematico, il controverso, l'arcigno proprietario dell'omonimo locale interpretato da Humphrey Bogart o sarebbe scappato ornata negli Stati Uniti con il legittimo marito? Chi lo sa? Questo sarà uno degli elementi che torturerà un po' gli sceneggiatori, torturare gli stessi attori. La stessa Bergman confesserà, dice ma a chi mi devo affezionare più a uno o l'altro e gli dissero fa un po' una cosa mediana perché ancora non sappiamo poi come finisce il film. Il film finirà in maniera molto ancora più rogambolesca con delle scene, delle frasi rimaste ormai mitiche nella mitologia del cinema. C'è tutto un frasario, tutto un costrutto, un'antologia a livello delle musiche, dei dialoghi, delle situazioni, dei motteggi di Bogart che appunto con la sua sigaretta, con il permeabile, col borsalino, con tutte queste caratteristiche va un po' a costruire una sorta di mito che rimarrà un po' appiccicato ai vari personaggi ma che in qualche modo rendono questa pellicola particolarmente magica, particolarmente complessa ma allo stesso tempo lineare per definire tutti i tratti tipici di un noir annacquato da una storia d'amore, annacquato in senso positivo ovviamente da un'ambientazione bellica che in qualche modo ha anche una sua connotazione politica. E perché vi parlo della connotazione bellica? Perché in Italia ovviamente come dicevo è stato profondamente modificato alcune scene, per esempio la figura di Rix che è partecipato alla guerra di Spagna ma aveva partito prima, almeno con un contributo di armi alla guerra itali-etiopica che nella versione italiana diventa un'aiuto ai cinesi, ma allo stesso tempo l'aspetto sia l'impegno della resistenza, la resistenza in Europa, la resistenza in Francia, la resistenza in Africa settentrionale e centrale, ma allo stesso tempo anche l'impegno di alcuni paesi nel favorire la distribuzione di questo film o di impedirne. Pensiamo all'Irlanda che era particolarmente sensibile a una situazione di neutralità e quindi decise di eliminare tutta una serie di scene che potessero essere troppo compromettenti per essere ovviamente smaccatamente pro-alleati. Ma questo è un problema che verrà in realtà smorzato in tutta una serie di successive edizioni, pensiamo a quella anche tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale che andò un po' a stemperare tutte le parti in cui si parlava di nazisti, in cui si parlava di cattiverie, di crimini veri e proprie da parte nazisti. E allo stesso tempo alcuni elementi vennero un po' attenuati nell'aspetto della storia d'amore, pensiamo agli Stati Uniti con il loro purinatesimo, puritanesimo, scusate, in cui l'elemento sessuale, l'elemento amoroso tra persone coniugate e persone non coniugate, ebbene questo elemento è un elemento di grande importanza e quindi cercare di togliere o far soltanto pensare a possibili relazioni extraconiugali tra i protagonisti che appunto poi andranno anche in qualche modo a determinare l'esito della scelta finale per capire ma effettivamente una donna può scappare con l'amante o deve scappare necessariamente con il legittimo marito, ma se il legittimo marito si pensava che fosse morto ma in realtà non era morto e in qualche modo, ah beh, comunque, sono elementi che si vanno un po' a incartocciare nella storia del film e poi in qualche modo si vanno a sciogliere, io non vi dico niente anche se il film è notissimo ma vedete il film e capirete un po' come voi va a finire un po' tutta questa ondulazione del triangolo amoroso innespato all'interno degli elementi, pensiamo anche all'aspetto sessuale con le moine, i ricatti, le lusinghe che fa il capitano francese nei confronti della concessione a belle donne dei Lascia Passare, quindi è un film complesso che ha tanti elementi anche di grandissima attualità ma che ovviamente calato nella realtà del 1941, 42 e 43 aveva delle esigenze anche morali di particolare attenzione. Vi dicevo, il film ambientato nel 1941 in una realtà precedente a Pearl Harbor ma che poi in realtà poi il film, come dicevo, aveva avuto una modalità di sviluppo, si pensò di adattarlo, di modificarlo in corso d'opera ma poi in realtà la Begrima si era lì di capelli perché doveva fare altri film, perché suona la campana, quindi poi il film è rimasto in un certo modo così e non si è più toccato per tutta una serie di motivi, si pensava di poter aggiungere delle scene finali con l'intervento, con lo sbarco in l'operazione Tors proprio in Nord Africa ma alla fine il film è rimasto così e va bene così. Ma sviluppatosi intorno al 42, doveva uscire nel 43 ma poi si è anticipato almeno nella prima proiezione perché? Perché appunto nel novembre del 1942 vi fu l'effettivo sbarco americano in Nord Africa, proprio in Marocco, in Algeria e quindi era di preminenza anche per un'attività promozionale il fatto di caratterizzare l'aspetto di Casablanca. Aspetto di Casablanca che si andò ancora più a enfatizzare nel gennaio del 43 quando venne a svolgersi una importantissima conferenza interalleata proprio a Casablanca per definire i destini e l'evoluzione stessa del conflitto, quindi questo fu un elemento anche di grandissima popolarità, di grandissima promozione della stessa pellicola. Pellicola che come dicevo ha tantissime chiavi di lettura, si pensi a, ci sono delle chiavi di lettura anche di tipo freudiano nel rapporto tra i personaggi, del non posso, delle attività e ci sono anche delle interpretazioni che vogliono dare al personaggio di Humphrey Boga una sorta di rappresentazione di Roosevelt, un Roosevelt che nicchia, che si vorrebbe impegnare ma poi fino all'ultimo non lo fa o lo fa in maniera abbastanza camaleontica e questo è anche un elemento che si vuole dare questa chiave di interpretazione politica di un possibile intervento degli Stati Uniti visto che appunto si parla di Casablanca che avrebbe una sua connotazione con Casa Bianca, quindi è anche qui tutto un gioco di specchi riflessi, di capire ma la realtà è un riflesso della finzione o la finzione è riflesso della realtà, chi lo sa. Questo è un film che ancora oggi, dopo quasi 80 anni, lascia ancora lo spettatore e colui che gli vuole dare un'interpretazione, ampi spunti di analisi, di apertura, di sviluppi, di interrogativi che probabilmente non risolveremo mai, probabilmente perché ci stiamo facendo anche sempre delle troppe riflessioni mentali e quindi poi alla fine il film è molto più lineare e gli vogliamo noi dare delle cariche emotive per giustificare il grande successo. Sostanzialmente il film è bello, ha un suo intreccio molto molto interessante che è calato in quel momento storico ma allo stesso tempo di una sua vita propria nella sua evoluzione successiva in cui è diretto bene, ha una sceneggiatura solita, ha delle ambientazioni raffinate, un po' esotiche che danno il pepe e danno il pepe anche nella evoluzione stessa di questa storia d'amore che seppur travagliata ha degli elementi di grande interesse. Da ultimo vorrei citare ha vinto tre Oscar, miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale ovviamente nel 44 e che ha come aiuto regista colui che curò le scene diciamo tecnicamente ambientate a Parigi, in realtà poi vennero fatte in studio utilizzando delle scenografie anche riciclate in qualche modo, tutta una serie di espedienti cinematografici fu girato da un giovane Don Seagal, Don Seagal che sarebbe stato poi reso famoso soprattutto con i film con Clint Eastwood, lui avrebbe avuto una lunghissima carriera nei decenni a seguire. Quindi è un film complesso, un film che veramente ha segnato la storia del cinema e un film che in qualche modo dà ancora oggi spunto sia per citazioni, per allusioni, per riferimenti, per veramente per imitazioni, per una serie di continua di agganci, di ancoraggi a quel tipo di cinema ma allo stesso tempo che dà anche chiavi di lettura su spiegazioni cervellotiche che forse come dicevo hanno semplicemente la necessità di spiegare un film fatto bene, bello e quindi semplicemente il film è bello e dobbiamo per forza andarci a cervellare sul fatto per quale motivo piace ancora rispetto ad altri film che invece sono stati dimenticati da decenni. Detto questo, come alzò vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale alla prossima, ciao!